Benvenuto a Mantua, presentati come giocatore. Ciao, sono Gaetano Navas, vengo da Napoli. Sono un tipo di giocatore che tende a fare tutto sulla quantità e lascia la qualità un po' agli altri, diciamo. L'anno scorso hai esperienze in quale squadra? Sono stato metà anno a Reggio Calabria e poi sono andato via con la Paganese. Questa esperienza Nord ti spaventa? Non conoscere gli avversari può essere un insidio per te oppure no? No, a me non spaventa niente perché giustamente non si sa cosa si incontra su qualunque campionato. Quindi questo per me non è un problema. Quali gli obiettivi personali? I obiettivi personali è fare bene perché questo è un trampolino di rilancio per me e soprattutto spero che anche la squadra farà bene. Hai già parlato con il mister? No, avevo parlato un po' tutti insieme e ho dato delle ottime impressioni. Grazie. Grazie.